Andiamoci da fare Tabulo rasa Mazzate dov'è che siamo che non ho letto? Sardina sul retro Bravo sei, qui alfa due Quanto questo sto registrando io, non ti preoccupare Cosa devo fare? Cazzo questa è la missione che abbiamo visto Nel trailer mi sa Bellissima raga Siamo a Londra Bravo sei, avanziamo all'interno Siamo a Londra con il Silenziatore Uomo Q1 Zitta Mamma mia Siamo con un gruppo ultranazionalista Dopo gli attacchi penseranno alle operazioni AES Credi nel lupo Controlla il saluto Ma questa operazione è fallita Non è fallita Se ne sono assicurati i tuoi fratelli morti Dovevano esserci il doppio delle vittime Ne parlano ovunque in tv Questo è il punto Siamo nel Regno Unito Pensi che la gente cammini preoccupandosi di esplodere Adesso lo fanno Alcatala è un nome molto conosciuto Coordineremo gli attacchi con gli altri Parigi, Mosca, Monaco Gli americani Presto Mamma mia Price Ehi, ma dov'è il tè? Sono qui! Fanculo Libero Alfa 3 Entri a una porta principale Testa di cazzo By Price Bravo 6 Avanziamo al primo piano Ma quella tipa lì non dobbiamo ucciderla, mi sa Mazzò Ammazza o Alla fine l'ho ucciso lei Metti in sicurezza il piano Primo piano sgombro Con me Ok Allora mi stavo Io mi tenevo premuto raga È una porta che spara singolarmente Eh sì, è una porta È un'arma che spara singolo Un'automatica Cazzo Sgombra quella stanza Sgombra quella stanza Ripolisci quelle stanze Ok Piano sgombro Adunata alle scale Chi è che è morto qua? Raggiungi subito le scale Ma sento un bambino che piange Dobbiamo stare attenti raga Che si ammazza il bambino È finita Comunque potevano fare Doppiaggi in arabo Guarda se sono arabi Ferma, ferma, ferma Non ucciderla Ferma 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 Libero Ultimo piano Vai avanti C'è ragione Chiusa Questa è chiusa Cerchiamo di catturarle vive No, no, no È meglio Cerchiamo di catturarle vive Ha detto Giù, sta giù Non sparare Ti prego Stai ferma Sta ferma Mi hanno chiuso qui dentro Spara Oh, sotto al mento Cosa è che voleva fare questa? Porca puttana Voleva il detonatore Ma l'abbiamo fermata Abbiamo fatto bene Decisamente Sappiamo dove si trova il lupo La palazzina di Alcatala Era una miniera d'oro Abbiamo trovato il lupo Il portatile ci ha condotto all'ospedale Ramasa In Nordicstano Crediamo che il leader di Alcatala sia lui Le truppe di Farah monitoreranno i terroristi all'ospedale Mentre una squadra di terra di Marine Avanzerà sul complesso Ecco 3-1 Catturerà il lupo Per interrogarlo sul gas russo rubato Vai, ecco 3-1 Cazzo, Chris Ermsworth E' uguale I soldati confermano che l'ospedale è sotto sedio Alcatala sta sfruttando i civili come fossero scudi Proteggono qualcuno O qualcosa Più scopriamo Via libera Farah A dire il mio cecchino migliore Conta pure su di lui E su tutti gli altri I Marine vogliono un po' d'azione Guideranno l'assalto Ti ho detto che avremo aiutato E sei di parola Non è per quello Che lo faccio Per gli invasori del mio paese La vita umana non ha valore E il gas uccide tutto Anche il cibo che coltiviamo Chi usa queste tattiche è mio nemico Nessuna eccezione? No Alcatala ci ha rovinato la reputazione Abbiamo pagato cari i loro crimini Il lupo va punito Farò in modo che tu sia all'ambasciata Durante la consegna E tu? Dove andrai dopo tutto questo? Ovunque mi manderanno Non puoi scegliere Non proprio Riposa Domani sarà dura E tu e i tuoi uomini? Saremo qui fino all'alba Copro l'angolo sguarnito Cinematica da paura Really Battuta di caccia 28 ottobre Eh Davide Può di leggere 28 ottobre L'ospedale è in fondo alla strada Mezzo chilometro Io vado insieme ai marine Ecco 3-1 Sergente Griggs Ce l'hai davanti? Chiamami Alex No, niente locali Non decido io Sei Karim? Ce l'hai davanti? Bel lavoro contro i russi Amici e nemici in comune E tu? Non so se non arriva Ok Cora Dovremo spacare il culo raga Amici e nemici È tutto un casino Seguite il blindato e state vicini Viper dove siete? Viper in direzione nord Verso checkpoint Omaha 12 Ricevuto Appuntamento all'incrocio Tra un minuto Cacca Eh Ma ieri Ti è appena bombardato in testa Non è che gli sta tranquillo lì Comunque Vicente Vi dai il campo nella nicchia Situazione 3-1 Vuoi disinnescarlo? Ok vado 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 Merda Seguite il blindato e state vicini Non stare attenti a ste granate Vado 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 Verso l'auto Non ce no Può versi muore Ricevuto Avanti 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 Vado 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 allora ok via 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 e questo maggiore non puoi sparare che c'è una granata What the fuck No Ma che stanno ad andare Ne progetti di chiara Che amadoschia Che caga Ah ok Arrivano raga Libero Vado al secondo piano Il piano degli straniere Non si può Libero Ricevuto A tutte le unità A raccoltarsi al convoglio Ma c'è Ma siamo noi le finestre E' in strada 025 Ai Mazza questa veterana ragazzi Deve essere Parca vacca raga Porca vacca Raga saremo dall'atrio dell'ospedale adesso potete scatenarmi pensate che è un ospedale questo comunque ma che avanzare zi che qua è pieno di stronzi aia via 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 ogni volta che parla impressionante ok mi sa che però non è finita sì che cazzo è un lupo ricordati che ci serve vivo 3-1 ricevo un dono cazzo non si sa che in massa attenzione ho trattato le sparate pieno di civili ma che cazzo spara quello proprio canne mozzi ok orca dove spari qui te frate scusami ok minchia non ha munizioni aia minchia non lo vedo non lo vedo ehi giuritemi ok è morto lo so merda la mira non ci sta ancora il lupo ragazzi questo posto è un obiettivo mani in vista buzzate in boscato sei un dottore con i quei di ridomi controlliamo lì tutti quanti le mani su non sparate seduto cazzo seduto seduto non sapevo 1 2 unità dimon 3 mi ricevete dimon 3 non risponde sergente cazzo trovateli avanti avvicinati senza uscire allo scoperto forte il fall tutto c'è sbroccato oh la granata ma che cazzo non risponde Non c'è di che, sergente Dizie da Dimon 3? Niente, sergente Ricevuto Pronta Oh I tuoi uomini non ti salveranno Eccolo, il lupo Ma non dà mica le munizioni Porta, davanti Griggs, entriamo State pronti Fermi Perché il santo è versato per vendetta Dimon pronti Prendi quell'animale vivo, Alex Non sparare Stendilo a terra Ma che occhi ha? Cos'è, secco? Portiamolo all'ambasciata 2-6, ecco, terzo piano, estrazione Attenzione, il punto di ingresso principale è sgombro, ma non fermo Ricevuto Arrivo tra tre minuti 2-6, chiudo Tre minuti Fra tre minuti la mia gente avrà già fatto irruzione, verrete uccisi tutti quanti Ho scelto di catturarti Ho scelto di catturarti vivo, ma posso sempre cambiare idea Avete sbagliato persona Menti Digli cosa hai fatto Non abbiamo rubato il gas Chi allora? Qualcuno molto pericoloso E dov'è? Mi piacerebbe saperlo Il macellaio è lì fuori Bruceranno la città se devono Puoi salvarti, figlia mia Unisciti a noi Non rivolgerle la parola Ehi Andiamoci piano, va bene? Io non sono tua figlia, vecchio Io guido soldati, tu assassini Ma siamo tutti assassini qui, no?